La notizia della qualificazione, ha preceduto l'evitabile sconfitta contro il qualificato Krojinovich in cui è incappato ieri il russo nel torneo di Mosca. Rublev attende ora novità confortanti da Vienna, dove il suo nome figura nella seconda casella degli Alternates, non dovessero liberarsi altri due posti in tabellone, sarebbe costretto a disputare le qualificazioni. Il russo ha fondati motivi per sperare, considerando che l'attuale entry list non ha fatto ancora spazio al quarto slot riservato alle Wildcard, il torneo austriaco di solito ne assegna soltanto tre, e a quello destinato all'eventuale richiesta di special exempt. Prima di chiudere la stagione a Milano Rublev sarà anche a Parigi Berchi, torneo in cui ha già l'ingresso assicurato nel Main Drive. Questa è la situazione attuale della race Tung Milan, in grassetto i qualificati ufficiali, in corsivo quelli virtuali, asterisco sui tennisti ancora in campo questa settimana. L'ottavo nome sarà una Wildcard italiana.